Benvenuti in paradiso, è una notte di festa per la Spal che saluta la Serie B e si prepara a ritorno dopo 49 anni in quella che è la sua storia. Squadra con turnover che più turnover non si può, così come nel Bari che chiude il campionato con molti rimpianti, l'arbitro della gara è Mainardi di Bergamo. Ma l'avvio è in salita per la neopromossa Spal in uno stadio mazza in festa, Romizzi verticalizza in profondità per Galano che corre alle spalle dei difensori di casa e con un pallonetto batte Meret, Bari avanti Cristian Galano, conta il sesto bersaglio in questo campionato. Undici minuti dopo la Spal trova subito l'iniziativa vincente con Zigoni che vola verso la porta, poi una traiettoria strana con la complicità degli ospiti e il pareggio e cosa fatta? Gianmarco Zigoni per lui la decima rete nel campionato della promozione. Mezz'ora di gioco, la punizione dall'out destro e di Delgrosso, esecuzione interessante a giro, pallone oltre la traversa. E' un momento di grande pressione della Spal, Castagnetti scaglia la conclusione insidiosa a fil di palo. Il tempo si chiude con Galano che sul lancio lungo arriva sul pallone ma difetta nel controllo, occasione sprecata. Il montaggio filmato Roberto Totti ci mostra la ripresa e il tentativo di Furlan a lato, conclusione di collo destro, nulla di fatto. Ancora Bari, angolo di Galano, in area, botta sicura, Salzano salva a Castagnetti. Ma la Spal trova l'energia giusta nel finale, Delgrosso il traversone, Zigoni di testa, Gori, grande parata. E poco dopo ancora il portiere 21enne subentrato nel secondo tempo salva prima su Antenucci e poi cede al gol di Gianmarco Zigoni, doppietta per lui e il 2-1 con Zigoni migliore in campo in una partita emozionante tra chi ha centrato il sogno e chi deve rinviarlo.